Preghiera in preparazione al capitolo generale ventiduesimo Capitolo Tempo di grazia, esperienza di crescita vocazionale in compagnia di Maria, la maestra nell'arte di amare Preghiamo come ci insegna Papa Benedetto XVI Santa Maria, Madre di Dio Tu hai donato al mondo la vera luce Gesù, tuo figlio, figlio di Dio Ti sei consegnata completamente Alla chiamata di Dio E sei così diventata sorgente Della bontà che sgorga da Lui Insegnaci a conoscerlo e ad amarlo Mostraci Gesù Guidaci a Lui Perché possiamo anche noi Diventare capaci di vero amore Ed essere sorgenti di acqua viva In mezzo a un mondo assetato Amen Grazie per la visione